E per finirvi vogliamo ringraziare Sesto Cipuani, che è sempre dietro le quinte, ma per noi è importantissimo, in tante fasi, prima e dopo il concerto, ciocco Maurizio Ciocchetti, Sesto Cipuani. Ok, questa è la canzone che chiude il nostro alunno al vivo. È sentito l'Amo, l'ha fatta appunto bene. Grazie. 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 Grazie.